Perciò diciamo che una persona che magari, abbiamo detto che inizialmente per una persona normale, chiaramente normopatologica, normalmente normopatica si dice, un soggetto sano, praticamente non dovrebbe dare problemi, però se una persona invece è appassionata appunto della danza del ventre, man mano che pratica la danza del ventre, anche per una cosa, per un fattore esterno chiaramente, estraneo appunto a questa attività, magari ha un problema di scala, di produzione o estrusione eccetera eccetera. Praticamente a questo punto mi sembra di capire che può essere controindicato in alcuni casi? Sì, in alcuni casi sì, nel senso che deve essere fatto uno studio appunto dal fisiatra competente, vedere un po' quali sono i movimenti particolari che possono scatenare questo tipo di dolore, dovuto appunto allo spostamento dei dischi o comunque alcune contratture antagiche, riflesse muscolari, eventualmente si può cercare di evitare alcuni movimenti specifici, oppure in altri casi si è costritti purtroppo, quando si ha una presenza di ernie che sono abbastanza importanti, a diciamo abbandonare questo tipo di attività sportiva, però nel soggetto sano appunto questo non è assolutamente controindicato, nel senso che è chiaro che da una sollecitazione che può essere rispetto a altre attività sportive è un pochino più vivace, dal momento in cui si ha una lesione vera e propria del disco intervertebrale è importante, in questo caso converrebbe appunto, cerchiamo mantenere un equilibrio appunto tra il disco stesso e le strutture nervose. Le consiglierebbe di smettere in questo caso? Beh comunque si può, non smettere addirittura, ma comunque si può ridurre diciamo il movimento stesso, quindi continuare a praticare la possibilità sportiva, però senza esasperare il movimento della colonna lombosacrale. E ritorniamo ancora a parlare col dottor Finucci, perché io vorrei adesso a questo punto lasciare a parte il discorso sportivo, discorso posturale, abbiamo parlato occidentemente, però è inutile addentrarci appunto nei meantri appunto della ginnastica posturale, perché sono, non è che possiamo spiegare delle tecniche appunto, quella ci si rivolge a un fisioterapista esperto appunto, no, parlavo come fisioterapista per, cioè fisiatra chiaramente manda al fisioterapista e il fisioterapista poi giustamente ha una sua competenza specifica per poter seguire appunto il paziente, che bisogna dire che bisogna, nella ginnastica postura bisogna essere veramente pazienti, poi penso, perché se uno ha un problema. E invece vorrei a questo punto parlare un attimo invece di un'altra cosa, di quelle che sono le abitudini, però mi sembra che abbiamo uno spot pubblicitario, noi ascoltiamo lo spot, appunto la linea va di nuovo alla regia, Max Giustante, poi torniamo ancora con il dottor Finucci, ricordiamo ancora fisiatra verso il centro paraplegici di Ostia Lido, per poter appunto parlare appunto di quelle che sono le abitudini, ecco restate con noi perché questo è molto importante, quello che in qualche modo può essere controproducente per l'insorgere oppure anche per il peggioramento appunto di problemi alla corona vertebrale e quello che invece può essere utile sicuramente per alleviare quelli che sono i problemi. Restate con noi, per questo la parte più importante perché nella vostra attività quotidiana sicuramente avrete sempre a che fare con posture sbagliate e magari con una piccola correzione si possono evitare problemi che magari fanno perdere sicuramente moltissimo tempo e soprattutto danno veramente tanti fastidi. Ritorniamo in linea alla regia, ritorniamo subito dopo. State ascoltando Radio Roma. E nuovamente eccoci in studio, ecco parliamo appunto a questo punto delle abitudini quotidiane. Sì. Dottor Finucci, la nostra giornata inizia la mattina, ci svegliamo. Innanzitutto ecco, prima partiamo dalla sera, andiamo a dormire. Come bisogna dormire? Allora, innanzitutto bisogna scegliere un tipo di letto che sia diciamo adeguato al problema. Normalmente il letto deve avere un supporto piuttosto rigido, c'è la rete che può essere fatta sia in legno che in diciamo in ferro, in acciaio, ma quello che conta maggiormente è che deve essere il materasso al di sopra, non deve essere particolarmente rigido. Oggi purtroppo si vede come si vendono in commercio dei materassi che hanno un numero di molle d'acciaio particolarmente elevato, che rendono questi materassi particolarmente duri. In realtà il supporto deve essere rigido, ma il materasso deve avere una durezza intermedia. Per fare una prova pratica, ovviamente quando si prova a puntare un ginocchio contro il materasso, quando affonda, diciamo con una discreta semplicità, il ginocchio e poi si inferma perché appunto incontra la rete, può dire che il materasso è di una durezza insomma sufficiente. Ecco adesso sono anche materassi in commercio tipo l'attice che possono dare una giusta misura di quanto deve essere rigido, diciamo questo tipo di supporto per dormire. Questo per quanto riguarda il materasso. Poi non so, durante la notte diciamo che si potrebbe dire che è vietato dormire a pancia in giù, per dire in modo molto semplice, si può dormire preferibilmente in posizione su un fianco oppure come si potrebbe dire a pancia in alto. Questo perché? Perché la posizione prona, cioè a pancia in giù, dà una iperestensione del rachi dell'ombo sacrale. Un'altra regola importante è che quando si sveglia la mattina, per i soggetti che soffrono di mal di schiena, se possibile stare qualche minuto su un fianco prima ancora di alzarsi, perché questo in generale riduce il dolore durante il risveglio e durante il passaggio alla posizione ortostatica, cioè la posizione in piedi. Mentre ci laviamo la mattina al volto, converrebbe non stare troppo fermi con i piedi uniti, come un soldato, a mettere un piede di fronte all'altro e ogni tanto alternare, cioè porre prima il piede in avanti, il piede destro, poniamo il piede sinistro indietro, dopo pochi minuti invertire questa posizione, in questo modo si abbassa il baricentro e oltretutto non si ha la fissità posturale che causa di dolore. Mentre ci vestiamo, ad esempio, se dobbiamo allacciarci le scarpe e offrire delle calze da uomo o da donna, dobbiamo essere bestabili, dobbiamo essere seduti, non possiamo farlo in posizione ortostatica, cioè in piedi, perché altrimenti questo può danneggiare la nostra colonna. Dobbiamo allacciare le scarpe, dobbiamo sollevare il piede verso un banchetto, verso un qualcosa di più alto, in questo modo non sforziamo troppo il rachide stesso. Torniamo allo stare a letto, diciamo, dormire, insomma, la posizione notturna. Il cuscino? Per quanto riguarda il problema del rachide cervicale, questo cuscino deve avere un'altezza non eccessiva, il cuscino deve essere praticamente un po' basso. Quando c'è una verticalizzazione del rachide cervicale, dovrebbe usare addirittura un cuscino alla francese. Vi sono comunque in commercio vari tipi di cuscini ortopedici cervicali, la maggior parte dei quali purtroppo non sono di buona qualità. Ma in genere vi sono alcuni... Come si fa a distinguere quello buono e quello buono? Alla francese com'è, dottore? Diciamo che è come un cilindro, è come un cilindro, diciamo, piuttosto morbido, che si mette al di sotto del rachide cervicale, questo è per mantenere una buona curvatura fisiologica, quindi del rachide cervicale stesso. Per favorire la lordosi fisiologica, insomma, del rachide cervicale. Esatto. Dottore, invece, per quanto riguarda la nostra giornata, chiaramente uno esce di casa, poi comincia a lavorare ognuno le sue... Intanto si sale in macchina spesso. Ecco, ecco questo. Se sale in macchina dobbiamo mettere il sedile, cioè lo schienale del sedile deve essere posto circa a 120-140 gradi. Una volta la vecchia scuola diceva che si deve mettere il sedile al 90 gradi, niente di più sbagliato. Quando si scende dalla macchina a poggiare entrambi i piedi prima di uscire, sono preferibili le autovetture che non sono particolarmente basse, perché tendono a dare un maggior dolore. E ancora, se stiamo sull'autobus, ad esempio, dobbiamo stare attenti a non scegliere i mancorrenti per reggersi quelli che sono posti orizzontalmente in alto, ma scegliere quelli verticali, tutto che sono adeguati all'altezza. Tutto ciò che tende a muoversi, ad esempio delle maniglie per appoggiarsi che si muovono, attaccate con cinghie e movibile, quelli non sono da scegliere perché danno dei movimenti di iperestensione su raghi dell'ombosacrale. Quando andremo in ufficio, infine, ci vogliamo sedere. Intanto dovremmo avere una sedia di buona qualità, cioè questo vuol dire che dovrebbero avere dei braccioli che sono regolabili in altezza, cosa che oggi è disponibile anche in negozi a basso costo. Dovremmo avere anche una pedala posta di sotto dei piedi, che si vede una volta, adesso non si vedono più questo tipo di dispositivo. e chiaramente cerchiamo di non sbracciarci troppo sul tavolo, cioè spostare la sedia in rapporto a quello che si deve fare. Anche se dobbiamo posizionare davanti a un personal computer, regolare molto bene lo schermo al monitor, poggiare il polso quando si usa il computer, in questo modo si impedisce che vi sia un carico eccessivo dei muscoli tra pezzi, dei muscoli del collo, che altrimenti questo accade molto frequentemente, soprattutto sul sesso femminile, hanno poi dei dolori e una pertinitazione del raghi dei cervicani. Capita spesso di entrare in uffici istituzionali dove magari uno c'è poco lavoro e uno si stende, si mette sul tavolo e si mette a dormire, a riposare. E' sbagliata una posizione?